Va in archivio con un bilancio altamente soddisfacente la dodicesima edizione della sfilata di moda Senigalli in moda. Un evento che ancora una volta ha catalizzato l'attenzione di addetti ai lavori, esperti curiosi senigallesi e tanti turisti che ha richiamato al Foro Anonario un altissimo numero di spettatori. Un successo insomma sotto tutti i punti di vista che soddisfa Nero su Bianco e Planet Communication, organizzatori della Cremesse. Non nascondono il proprio entusiasmo anche il Comune di Senigallia che da sempre patrocina l'iniziativa e la Confartigianato in Presia Ancona che ancora una volta ha lavorato attivamente per rendere magica l'atmosfera di Senigalli in moda. Si è cominciato quasi per gioco invece questo binomio sta andando avanti bene, sta dando dei buoni frutti e Confartigianato come sempre cerca di essere vicino ai propri associati alle aziende artigiane e commerciali in questo periodo di crisi soprattutto per mettersi in mostra e per far vedere ciò che riescono a fare e ciò che riescono a produrre. Quindi è importante questa manifestazione affinché la gente possa poi vedere quello che domani può andare a comprare. Una straordinaria serata di moda, di grande qualità, di competenza e di affidabilità delle nostre aziende che dimostrano ogni anno che la loro creatività e la loro voglia di innovare e di essere al passo dei tempi è sicuramente il valore aggiunto. Tra l'altro l'assessorato all'attività economiche ha dato un segnale tangibile di questo evento, di questa manifestazione che in prospettiva lascia supporre che le cose continueranno ad andare sempre meglio. Sì, assolutamente, ho voluto strutturare con una delibera di giunta, con un atto formale che dà una sua importanza a questo evento che ormai è inserito da 12 anni negli eventi della nostra stagione turistica senigallese. Tanti flash mode e momenti di spettacolo, tante occasioni per mettere in risalto la classe, la bellezza, il fascino e l'eleganza. Tante componenti che, unite nel corso dei vari défilé, hanno decretato il successo di Senigallia in moda. La serata prevedeva inoltre la premiazione di Miss Senigallia nell'ambito del concorso Miss Arte Moda Italia, un momento dedicato all'arte in collaborazione con l'associazione culturale Verum che ha anche permesso di ammirare alcuni quadri di pittori contemporanei. Ad aggiudicarsi la fascia dopo un'attenta selezione della qualificata schiera di giurati è stata Marika Caldari, una studentessa ventenne di Fano. Ho 20 anni, però sono del 94, quindi quest'anno ho 21. Sono di Fano e sono comunque la top model agency, che è di Senigallia, dove mi trovo benissimo. Infatti grazie a loro che ho potuto partecipare anche a questa sfilata, a questo concorso. Che cosa fai nella vita e quali sono le tue aspirazioni? Sono una studentessa universitaria, studio culture e tecniche della moda a Rimini e faccio danza ormai da 12 anni, quindi ho insomma parecchi impegni. Questo mi porta via parecchio tempo, ma mi piace molto, quindi faccio volentieri. Miss Senigallia è vincitrice anche di questa fascia regionale che adesso ti permette di andare a questo concorso nazionale. Speriamo di rappresentare al meglio la regione. A chi lo dedichiamo a questo successo? Alla mia famiglia, a mia mamma che mi ha sempre sorretto. Facciamo un saluto speciale. Un bacio. Oltre alla vincitrice della tappa senigalliese, altre due ragazze hanno ottenuto l'accesso alla finale nazionale di Miss Arte Moda Italia in programma in Toscana nelle prossime settimane. Si tratta di Irene Carloni, 20 anni, di Chiaravalle e Rosalba Barattini, 23 anni, di Fano. Assegnate inoltre altre due fasce, quella di Miss Figurella che è andata a Deborah Darko, 21 anni, di Ancona mentre quella di Miss Tiziana Showroom, Umica Spa, ad Arianna Galdenzi, 19 anni, di Osimo. Come vuole la tradizione, la lunga serie di flash mode è stata aperta dalla passerella dei bambini, in questa occasione vestiti dal reparto Kid di Moda Leader di Iese, abbigliamento per bambini e ragazzi. Tante creazioni con la formula che ha reso il marchio Moda Leader famoso anche oltre i confini regionali. Le firme più prestigiose del Baby Fashion ai prezzi dell'outlet. Grazie ai Baby Modelli si completa quindi la proposta di Moda Leader per tutta la famiglia. E poi Quarta Strada di Senigale, una storica boutique della città che ha presentato in anteprima la collezione Autunno-Inverno 2016, firmata Twin 7, Simona Barbieri. Punto di forza e vera novità della stagione di Quarta Strada è l'ampia proposta di capi spalle di pellicceria per un inverno avvolgente. In passerella, capi emozionali speciali e originali dove emergono i colori dell'autunno accanto ai toni più caldi del panna. La bottega di Marinaio di Senigalli è un punto di riferimento storico nato da una felice intuizione di Cristina e Stefano Franceschini che il prossimo anno festeggeranno 30 anni di attività. È un negozio molto particolare come i brand che ha presentato, Aeronautica Militare, Marfiannai, Superdry, Riff per scarpe e Infradito. Un negozio attivo anche con la vendita online e consegna in tutto il mondo. Gli accessori sono stati scelti da Nile Nile, attività aperta da pochi mesi a Senigalli è nata per soddisfare le esigenze di una donna dinamica giovane ma che non rinuncia alla comodità, al fashion e alla ricerca dei particolari. Il marchio Nile Nile vanta caratteristiche di produzione scarpe made in Italy con calzature disegnate da stilisti del gruppo e realizzate con materiali pregiati moderni, pura espressione del gusto e dell'alta qualità italiana. Assieme a calzature e accessori di Nile Nile le modelle hanno indossato abiti creati da un gruppo di ragazzi studenti del secondo anno del corso di Fashion Design dell'Istituto Poliarte Design School di Ancona. Una collezione ispirata ad una serata estiva sulla Rotonda di Senigallia raffinata e capace di richiamare gli anni 60 e 70 lanciando uno sguardo fresco e disincantato al mondo hippie. King Sport & Style, realtà giovane e dinamica, una delle più importanti dello sportwear del centro Italia con i suoi 18 punti vendita tra Marche, Umbria e Abruzzo. Già il nome riassume la filosofia del gruppo guidato dalla famiglia Benni, abbigliamento e materiale tecnico per ogni disciplina sportiva ma anche sportwear di stile e qualità per uomo, donna e bambino. Come detto, il concorso ha dedicato uno spazio all'arte in collaborazione con l'associazione culturale Verum di Porto Sant'Elpidio ideata per divulgare l'arte nelle sue molteplici forme e sfumature. Un'associazione giovane ma già ideatrice di varie manifestazioni e di premi d'arte internazionali che anche a Senigalli in moda ha fatto immergere il pubblico nell'arte, nella bellezza e nella passione attraverso proposte davvero eleganti sotto ogni punto di vista. Oltre alle proposte per i bambini, Moda Leader ha presentato i capi uomo e donna provenienti dagli stock delle firme più esclusive, a un costo come sempre dimezzato. Una ricerca attenta anche delle particolari per ognuna delle migliori marche delle Maxi Store di Iesi, lanciato nel 1987 da Claudio Sartini e anno dopo anno sempre più conosciuto per la sua filosofia un po' ovunque. Tra i flash moda di scena pure l'Istituto Superiore Padovano di Senigallia, un progetto degli studenti delle Corso Moda dell'Ipsi attraverso alcuni degli abiti da sera realizzati dalle classi quarte e quinta. Ogni outfit è frutto della rielaborazione che ogni studente ha sviluppato e esternato nelle percorso progettuale partendo da vari punti di vista a volte legati alla forma, altri al colore, al volume, ad aspetti decorativi oppure a concetti. E poi Filomania, un'azienda che si trova a passoripe di tre castelli e che rappresenta un riferimento per l'intimo, il cucito e le idee regalo. La titolare, Liana Belbusti, veste l'intimo e la pigiameria per l'uomo, la donna e il bambino con marchi di altissimo prestigio tra i quali Ragno, Navigare, Liabel, Ambizione, Conquista, Triumph, Lormar, CLA, Leple, Lilli e rivolge particolare attenzione al neonato con graziose idee regalo. Sguardi Sposi di Iesi Ancona ha proposto due momenti, la parte dedicata alla cerimonia con stili innovativi, tessuti preziosi e ricami di alta qualità. E poi lo spazio con abiti per gli sposi delle migliori griffe italiane e internazionali per sottolineare tutti gli stili da scegliere su oltre 150 modelli disponibili. Sguardi parteciperà all'evento Idea Sposi Expo con grandi iniziative per ogni weekend da ottobre a dicembre. Defilé di Sguardi reso ancora più elegante e raffinato grazie alla presenza in passerella di graziosi cagnolini chihuahua del centro allevamento professionale Hit Show di Trecastelli. Durante il concorso le ragazze hanno indossato gli occhiali di Novottico 80 di Senigallia negozio storico che ha festeggiato il suo 35esimo compleanno. Colonna di questa manifestazione alla quale è presente dalla prima edizione Novottico Tante e la sua titolare Carla Billet hanno proposto gli occhiali Saturnino, un prodotto completamente italiano dal design aggressivo, adatto sia all'uomo che alla donna, giusta alternativa all'occhiale tradizionale. Le acconciature delle modelle sono state realizzate da Danilo Parrucchieri, centro degrade Joelle per Senigallia, stile moda e eleganza, ma anche un look più particolare e trasgressivo. L'equipe, guidata da Danilo Perlini e con Daniera Raffaella Fiorenza e Lucia, anche per questa edizione di Senigallia in moda ha lavorato incessantemente dietro le quinte. Backstage di altissimo livello grazie anche al fondamentale ed elegante lavoro dello staff di Esteti Medica che ha curato il make-up delle modelle. Esteti Medica a Senigallia da oltre 25 anni è un centro estetico di riferimento con servizi curati dalla direttrice Tiziana Micci, estremamente all'avanguardia. L'allestimento floreale è stato invece curato da Mauro Fanesi, fiori e piante, composizioni e oggetti d'arredo, mentre le immagini della Kermesse e del backstage sono state realizzate dal noto fotografo senigallese Nevio Arcangeli. Tra i momenti di spettacolo apprezzate esibizioni di Nirvana, centro studi di danza di Senigallia con coreografie di hip-hop sempre ideate dall'insegnante Giorgia De Midio e tratte dallo spettacolo Cleopatra. Un centro studi di danza che ha partecipato a numerosi concorsi e rassegne in varie città d'Italia, ottenendo sempre risultati di prestigio. Applauditissime anche le esibizioni di Monica Danza, che nell'occasione ha proposto la danza del ventre, un momento di forte aggregazione tra donne, tra le quali si sviluppa un solido rapporto di solidarietà. Una danza che si può praticare a tutte le età e che, in due diversi momenti, ha proposto l'utilizzo dei ventavili e una solo dell'insegnante con virtuosismi di base tabla. Dopo il successo dello scorso anno, è tornata a grande richiesta con un altro show unico, Anna Kappa, 28enne ballerina acrobatica russa, protagonista anche Italia Ghost Talent su Canale 5. La straordinaria atleta, presente a diversi eventi in Italia e all'estero con il suo spettacolo Anna Kappa Show Dancer, ha ottenuto nuovamente un successo strepitoso dal pubblico e dalla critica. Non poteva mancare la musica dal vivo di Letizia Del Vecchio, cantante marchigiana di successo, studentessa di pianoforte quando andava ancora all'asilo, diplomata come mezzo soprano. L'artista, forte di una lunga carriera concertistica e di vari generi, si esibita a Senigalli riscontendo come sempre grandissima attenzione dal pubblico per le sue qualità vocali. Insomma, davvero una grande soddisfazione per la dodicesima edizione di Senigalli in moda sotto tutti i punti di vista e per tutti gli enti, associazioni, sostenitori, personaggi e persone che hanno creduto in questa formula. Per il quarto anno consecutivo, Confartigianato in Presa Ancona ha fornito il proprio sostegno, un'associazione e una grande forza da sempre al fianco delle micro e piccole imprese del territorio. Un riferimento fondamentale per gli iscritti, capace di offrire stimoli e di proporre interventi per migliorare continuamente il modello di sviluppo della comunità locale. Tra gli altri sostenitori, le attività del Foro Anonario di Senigalli, a Ciocco Ice, Caffè Ghinelli, Fondaloro, Macelleria Canestrari, Matis, Latteria del Prete, Il Eggiogo di Monterrado di Trecastelli, GF Distributore Metano di Trecastelli, Figurella Benessere di Monsano, Tiziana Showroom di Civitanova Market, B e Beauty di Serungarina, Elettività Senigallesi, Nevi Arcangeli Fotografie, Bagni 79 Carlo Armanda, Brico Idea, Gelateria Il Pinguino, Aerolab, Ristorante Fornarina, PR Gomme, Pianta Viva, Centro Auto, Concessionario Hyundai e Kia, Admiral Club.